Durante una giornata quante volte vi fate questa domanda? Perché? I bambini nell'età tra i 2 e i 3 anni e successivamente tra i 5 e i 6 anni entrano nella fase dei perché, ovvero bombardano di domande una persona adulta che hanno come punto di riferimento, che potrebbe essere la mamma, il padre, il cugino e gli pongono una classica domanda Perché? Perché il sole è giallo? Perché il mare è blu? Perché il giocattolo si è rotto? E tutta una serie di domande incatenate successivamente che continuano sempre con la stessa domanda Perché? Successivamente quando diventiamo grandi questa domanda iniziamo a non porcela più e accettiamo le cose così come stanno Ma chiedersi perché delle cose è una delle caratteristiche che contraddistingue le persone curiose sulla Terra Ovviamente non siamo tutti curiosi che a ogni minima cosa ci facciamo la classica domanda Perché succede una determinata cosa? Una cosa è certa è che le persone che si sono domandati il perché di determinate cose sono stati quelli capaci di grandi scoperte, di grandi invenzioni e perché no anche dello sviluppo della specie ma molto spesso porci dei perché può anche aiutarci a risolvere dei piccoli problemi proprio qualche giorno fa lessi un articolo molto interessante su Sakiki Toyoda lui viene definito il re degli inventori giapponesi tant'è vero che è uno dei grandi fondatori della classe automobilistica Toyota lui ha inventato il metodo delle 5 why, dei 5 perché secondo lui per risolvere un problema prima di prendere una decisione dobbiamo porci per 5 volte la fatidica domanda perché succede questa determinata cosa un esempio classico ce l'abbiamo proprio a Milano e a Roma dove nei rispettivi uffici tecnici è stato riportato un problema le statue erano sempre sporche, risultavano piene di guano un problema da non sottovalutare dato che queste città vivono di bellezze storico-artistiche e appunto era una brutta immagine per la città il problema si poteva risolvere in maniera molto semplice pulire le statue, ovvero attivare un servizio di pulizia magari quotidiano che pulisse le statue tutti i giorni ciò però comporterebbe appunto un aumento di spese a questo punto viene applicato il metodo di Sakiki Toyoda domanda numero 1 perché le statue sono sempre sporche? la causa per cui le statue sono sempre sporche sono gli uccelli infatti sono loro proprio a causare la sporcizia continua sopra le statue e sopra gli edifici storici una soluzione rapida e veloce era quella appunto di disinfessare la zona dagli uccelli ma prima di fare ciò ci poniamo per la seconda volta un'altra domanda perché gli uccelli sono attratti da questa zona? dopo una seconda analisi fatta la domanda posta si scopre che il problema erano gli insetti gli insetti erano quelli che attraevano gli uccelli vicino alle statue a questo punto si può prendere un'altra soluzione ovvero uccidere tutti gli insetti tramite degli insetticidi ma prima di fare ciò ci poniamo il terzo perché perché gli insetti sono attratti da queste statue in realtà la risposta non sono le statue ma bensì la luce gli insetti sono attratti dalla luce che ci sta sopra queste statue a questo punto la soluzione quale può essere molto semplice ritardare l'accensione delle luci sulle statue in maniera tale che gli insetti si spostano sulle luci distanti da monumenti e statue storiche così facendo anche gli uccelli si sono spostati dalla zona delle statue e dei monumenti alla fine di tutto è bastato semplicemente ritardare di mezz'ora l'accensione delle luci vicino alle statue e ai monumenti questo non solo ha comportato un risparmio energetico da parte della città ma inoltre non ha riportato dei costi aggiuntivi per quanto riguardava la pulizia delle statue questo che cosa ci fa capire? ci fa capire che nella vita non bisogna fermarsi soltanto alle apparenze quello che ci può differenziare tra tanti è la curiosità il chiedersi il perché non fare le cose semplicemente in maniera meccanica perché magari lo fanno tutti quanti così ma soffermarsi, pensare e chiedersi il perché e la soluzione potrebbe essere molto più semplice di quella che immaginiamo grazie per la visione e al prossimo video